Maria Rosario Esposito inizia un nuovo progetto sull'isola d'Ischia, lo state lanciando, riguarda il lavoro, il lavoro nel settore turistico, ancora più nello specifico, ecco di cosa si tratta. Lavoroischia.it è un'agenzia digitale di lavoro che ha l'obiettivo di mettere insieme quella che è la domanda e l'offerta di lavoro sull'isola d'Ischia, ovviamente non parliamo solo del settore turistico ma è prettamente legata al settore turistico ma si estende anche in altri settori. E appunto ha l'obiettivo di dare uno strumento ai candidati che cercano lavoro, di registrarsi sulla piattaforma, caricare un curriculum e stendere appunto un proprio profilo con più precisione possibile per proporsi alle aziende. E dall'altro lato alle aziende, ovvero albergatori, ristoratori o anche chiunque abbia un'azienda sull'isola che sta cercando lavoro, quindi arricchisce il proprio staff, di cercare delle risorse qualificate, andando ad affiliarsi sulla piattaforma e selezionando una serie di curriculum che noi riteniamo idoni e qualificati per quella tipologia di lavoro. Inoltre il lavoro Ischia si pone l'obiettivo anche di essere una scuola di alta specializzazione che oggi ad Ischia non esiste con la divulgazione di master formativi che partiranno a febbraio. Ecco, oggi siamo all'alberghiero, quindi state lavorando con i ragazzi, con le scuole, insomma che tipo di attività state facendo? Sì, stiamo facendo un'attività di promozione della piattaforma nelle scuole, siamo partite dall'alberghiero nel progetto di alternanza scuola-lavoro. Proprio per dare ai ragazzi un orientamento rispetto alla creazione di un curriculum, all'importanza di proporsi e di come affrontare una selezione lavorativa. E inoltre stiamo facendo conoscere la nostra offerta formativa, quindi i nostri master, appunto ai ragazzi dell'alberghiero perché a febbraio partono i due master che sono incentrati soprattutto sul management a livello turistico perché sono un master in digital strategy e revenue management e l'altro in food and beverage management. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Due li hai già annunciati ma soprattutto le prossime tappe, insomma da quando la piattaforma sarà attiva? Ah, la piattaforma è già attiva, quindi online, quindi chiunque può registrarsi e può appunto caricare il suo curriculum, lo stesso le aziende. Noi abbiamo un telefono e una mail a cui rispondiamo, quindi il nostro staff è sempre vicino a chi vuole appunto, ha necessità di registrarsi. I appuntamenti sono i master che partono a febbraio, un altro appuntamento è il 15 dicembre, c'è la presentazione della piattaforma a livello ufficiale per tutti gli esperti del settore che si terrà l'hotel Manzi. Una domanda mi sorge spontanea e poi chiudiamo, si parla tanto di reddito di cittadinanza, di centri dell'impiego, di difficoltà nel trovare lavoro. Ecco, questa piattaforma in tal senso può essere una di quelle iniziative private, quindi non pubbliche, che possono essere realmente di sostegno sia alla domanda che all'offerta di lavoro? Certo, noi non facciamo collocamento, ovviamente non ci poniamo come un centro d'impiego, però comunque diamo la possibilità oggi a chi sull'isola cerca lavoro di avere uno strumento concreto perché di fatto ad oggi il lavoro si cerca o con il passaparola o con alcune pagine online che però non sono strutturate e quindi non offrono una appunto offerta di lavoro qualificata. Professoressa De Simone, ecco, ci parli innanzitutto dell'importanza del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, tra l'altro insomma il Telese è stato un vero e proprio pioniere tra gli istituti scolastici ad intraprendere questo progetto. Veramente da quando seguiamo questi percorsi di alternanza scuola-lavoro le condizioni lavorative dei nostri alunni sono migliorate tantissimo perché attraverso i percorsi che facciamo qui a scuola, le opportunità di incontrare gli esperti come nel caso di lavoro.it offrono ai nostri alunni delle competenze specifiche che possono mettere in pratica quando fanno i percorsi di stage formativi che rientrano sempre in quelli di alternanza. Quando i ragazzi attraverso lo stage formativo fanno delle ore presso le aziende escono alla fine del percorso con una formazione a 90 gradi e hanno la possibilità poi di firmare subito un contratto di lavoro. Ecco l'importanza anche dell'incontro con gli esperti di lavoro.it che permette loro di crearsi un profilo in piattaforma, permette loro di adeguare un proprio curriculum vitae, cose che noi già facciamo nelle ore personalmente. Io sono insegnante di accoglienza turistica quindi con me i ragazzi si cominciano già a prepararsi un curriculum però su tanti aspetti ci vuole la figura dell'esperto e quindi ecco che lavoro.it ha dato questa opportunità ai nostri ragazzi di crearsi un proprio profilo, un proprio curriculum spendibile nel mondo del lavoro. Ecco che riscontro stai avendo dagli alunni? Perché poi le iniziative ne sono tante ma l'importante poi è essere compresi dai ragazzi e soprattutto insomma essere accettati in maniera positiva dai ragazzi. I ragazzi stanno rispondendo in una maniera molto positiva a questi incontri perché i ragazzi hanno bisogno proprio di sentirsi a contatto col mondo del lavoro e quando noi facciamo venire gli esperti dal mondo del lavoro a scuola per loro sono grosse opportunità e accettano con grande entusiasmo questa opportunità. I ragazzi non li abbiamo mai visti così interessati. Ecco ci può stare che magari durante qualche ora si distraggono ma mai lo fanno quando c'è l'esperto. che significa che stiamo dando risposta a delle loro esigenze, stiamo dando risposta a delle loro curiosità e che la scuola se si chiude solo tra le pareti dell'edificio non può fare. C'è necessità di questo incontro. I ragazzi ce lo dicono e noi lo vediamo di quanto entusiasmo ci mettono. C'è necessità di questo incontro.